in casa rai si è arrivati a una decisione fiorello sbarcherà su rai 2 con il nuovo programma della mattina nei giorni scorsi si è vociferato a lungo del suo approdo nelle prime ore di programmazione di rai 1 scatenando le proteste del tg1 i giornalisti e il cdr si sono lamentati del fatto che avrebbero sottratto loro un'ora di informazione in uno spazio sotto la loro cura si erano dichiarati sconcertati e contrariati non per l'arrivo di fiorello su rai 1 quanto per la sua collocazione nel paese tengono insomma parecchio alla programmazione allo spazio gestito dal tg1 e non avrebbero voluto rinunciarci che sia stato a causa di queste proteste o per altri motivi fatto sta che oggi carlo fuortes amministratore delegato della rai ha fatto sapere che fiorello andrà in onda su rai 2 buone notizie per il tg1 sì e no manterranno di sicuro il loro spazio con il tg1 mattina ma adesso fiorello è diventato un diretto concorrente nella programmazione il pubblico potrebbe preferire lui su rai 2 all'informazione su rai 1 è un'ipotesi non una certezza ma è possibile accada fiorello condurrà viva rai 2 questo il nome scelto per lo show che segna il suo ritorno in televisione il nome è chiaramente ispirato a viva radio 2 viva rai 2 è stato presentato stamattina nel consiglio di amministrazione dell'azienda la partenza è fissata per il 7 novembre ma su rai play in via sperimentale insomma in televisione arriverà invece dal 5 dicembre su rai 2 dal lunedì al venerdì per quanto riguarda l'orario invece non c'è ancora nulla di stabilito ma occuperà uno spazio compreso tra le 7 e le 8 virgola 30 viva rai 2 di fiorello sarà composto da 135 puntate e andrà in onda da dicembre fino a giugno nel weekend sono previsti gli appuntamenti con il meglio della settimana sarà disponibile anche su rai play e potrà essere ascoltato su rai play sound e su rai radio tutta ieri è arrivata la lettera del tg1 su fiorello oggi la notizia dello spostamento su rai 2 saranno felici per aver mantenuto lo spazio della mattina oppure gradiranno poco la concorrenza con fiore